bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xuber e oggi ragazzi parliamo di misteri in Fortnite ragazzi siamo abituati oramai lo sappiamo che Epic Games inserisce nel nostro sparatutto preferito un sacco di easter eggs che ci fanno vedere cose particolari rumori strani oggetti insomma ragazzi tante tante cose particolari che loro vogliono inserire per dare in là a noi giocatori di crearci le più grande illusioni beh ragazzi la cosa che ho scoperto oggi si trova qua nel cantiere ragazzi un posto che sembrerebbe insospettabile visto così ma che in realtà nasconde una roba molto 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 interessante non ricordo bene ma in un container ragazzi c'è una valigia che potrebbe essere uguale a tutte le valigie quelle da viaggio che troviamo quando entriamo nelle case ma che in realtà è aperta non è chiusa e nasconde al suo interno qualcosa di molto molto particolare non l'ho mai vista neanche io dal vero quindi lo sto facendo con voi certo che ragazzi è molto molto strano quello che troveremo al suo interno andiamo a vederla subito ragazzi ci buttiamo giù verso il cantiere ci stiamo arrivando eccolo lì sotto di noi è ben imboscato il container che dobbiamo trovare ragazzi quindi non è detto che lo troverò subito speriamo di capire assieme quale è un container blu vicino ad un container rosso quindi so che la posizione è esattamente qua dove ho messo il marker quindi deve essere uno di questi ragazzi c'è già gente peccato vediamo se riusciamo a toglierci ok uno via ce n'è un altro è allora il container è un si spacca un container blu per arrivare a un container rosso raga o si spacca un container rosso per arrivare a un container blu dobbiamo trovarlo raga voglio vedere dove sono è un po più avanti secondo me devo spaccare un container rosso adesso lo troviamo adesso lo troviamo questi sono tutti chiusi non è facile ragazzi è imboscata bene è imboscata bene potrebbe essere questo no sono troppo lontano sono troppo lontano vediamo se è questo non so dove sia ragazzi dove caspita rimane è mega imboscato raga adesso spacco tutti i container rosso rosso finché non li trovo ci deve essere ci deve essere non è neanche questa potrebbe essere uno di questi ragazzi e potrebbe essere potrebbe essere uno di questi no vediamo se è questo c'è un container blu aperto nascosto mi sembra che sia qua ma è troppo buio porco giuda ragazze dentro qua ma è troppo buio no è qua la valise ragazzi no ti prego diventa chiaro dai deve diventare chiaro subito deve diventare guarda guarda che va giù il sole aspettiamo che vada giù la luna ragazzi è quella lì sta diventando chiaro sta diventando chiaro ragazzi lo vedete lo vedete è qui dove ho messo il marker guarda guarda che sta alveggiando dai forza forza luce 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 vogliamo il sole vogliamo il sole vogliamo il sole vogliamo il sole dai ragazzi è facilissimo è facilissimo adesso l'abbiamo trovata è praticamente sotto quale impalcatura ecco così forse vedete meglio la posizione sta alveggiando è sta alveggiando ragazzi c'è gente c'è gente ma forse fuori guarda che c'è più chiaro guarda che sia più chiaro che sfortunati che siamo tanto la mette ora ragazzi wow che roba sembra veramente che stia per cadere adesso ragazzi è sempre più vicino forza lasciamo stare ok c'è l'easter egg sto a far vedere i ragazzi lasciami stare porca miseria guarda che inizia a vedersi guarda che si inizia a vedere guarda che si inizia a vedere ragazzi guarda 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 ancora un po più di luce ancora un po più di luce un attimo ragazzi lechie così lechie così un attimo ragazzi guarda 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 la vedi meglio la vedi cosa succede avanti lui ma la stai vedendo guarda è ancora un attimino di pazienza ragazzi ancora un attimino di pazienza e ve la faccio vedere porca miseria ma questi nabbi che vengono a killarmi non si vede ancora non si vede ancora guarda il sole guarda il sole dai illumina bene illumina bene tutto dai 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 facciamo entrare un po di luce facciamo entrare un po di luce no ragazzi ve la devo troppo fare vedere aspetta eh aspetta aspetta ok qua c'è la luce questo è il container togli questo togli questo sta arrivando il sole raga sta arrivando il sole che casino per farvi vedere una cosa via questo via questo devo far vedere il sole devo far vedere il sole ok c'è più luce c'è più luce benissimo via ancora guarda la guarda la guarda la mamma mia che ansia la voglio vedere anche io raga la voglio vedere di brutto anche io via il muro via il muro fa entrare il sole fa entrare il sole via il muro via il muro porca miseria c'è un muro ancora più grosso non si può fare nulla di qua spacca questo dai sta arrivando sta arrivando ragazzi sta arrivando si comincia quasi a vedere guardate raga guardate 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 che roba che cacchio è quella roba qua raga ma che cacchio è ma cioè ma non c'è niente per fare luce sta cominciando a vedersi bene sta cominciando a vedersi bene non penso che ci sia nulla che stia ancora ostacolando l'ingresso della luce togliti anche questo togli anche questo ok ok luce via anche qua via anche qua adesso entra più luce raga adesso entra più luce guardate che storia guardate che storia ok ok si vede ragazzi si vede si vede si vede che cosa vi sembra ragazzi che cosa vi sembra io non riesco a capire sembra un qualcosa di alieno non lo so sembrano delle cosette verdi aspetta che tolgo intanto ecco così si vede meglio mettiamo il medikit che così non c'è il mirino guarda 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 che si vede benissimo così guarda che si vede benissimo ragazzi non capisco che cosa possa essere sembrano delle cose verdi con attaccata una macchina dietro e una ruota grigia ragazzi io non so che cosa sia questo di certo è un easter eggs che deve avere assolutamente a che fare con qualcosa riguardante forse la nuova stagione boh fatemelo sapere qui sotto ragazzi nei commenti che cosa vi sembra questo oggetto super misterioso che è nascosto nei container del cantiere io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito anche in questo video vi ricordo che per tutte le novità di fortnite vi basta solo mettere un bel like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo in live ciao 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 ciao